Disciplina K1 Saranno 3 round da 3 minuti Categoria 67 kg Arbitra questo match il signor Giorgio De Muro Scusate, il signor Vincenzo Casu Facciamo un applauso anche ai giudici di cara Come avete visto è abbastanza impegnativo dirigere un match Per cui all'angolo rosso dalla Invictus Roma Francesco Picca Inglésia, faccio il segnale per Francesco Picca All'angolo blu Il suo avversario dalla One Shot 2561 Novara Alessandro Ragusa Alessandro Ragusa Alessandro Ragusa Il suo testamento Vincenzo Casu Alessandro Ragusa Il suo testamento Vincenzo Casu Il suo testamento Vincenzo Casu Un dip Thinking Il suo testamento Vincenzo Casu L'ultimo match di Mas Non avete visto io Il suo testamento Vincenzo Casu Non è tilliamo Grazie. 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 That's around. 40 secondi. 5 secondi. 5 secondi. 5 secondi. 10 secondi. 2 secondi. 5 secondi. Fai! sei 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 sei